Green Pass illimitato e via la mascherina in zona bianca sono alcune delle nuove misure volute dal governo. Da oggi la scadenza del Green Pass rilasciato dopo la terza dose diventa illimitata e sarà così anche per chi dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione ha contratto il Covid ed è guarito. Sei mesi invece la durata della certificazione verde per coloro che hanno prima contratto il virus e in seguito fatto due dosi. In questo caso per ottenere la validità illimitata occorre sottoporsi alla terza dose di vaccino. Nuove regole anche per il mondo della scuola. Stop alla didattica a distanza per vaccinati e guariti mentre la quarantena per i non vaccinati si dimezza da 10 a 5 giorni. Nel calendario delle riaperture graduali occorre segnare anche la data dell'11 febbraio quando in zona bianca non sarà più obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto. Nella stessa giornata riapriranno le discoteche ma entrano soltanto guariti e vaccinati. Dal 15 febbraio infine scatta il Super Green Pass per gli over 50 che lavorano. Dovranno infatti dimostrare di essersi sottoposti almeno alla prima dose di vaccino. Previsti relativi provvedimenti e multe per chi non è in regola.